Spesso non ce ne prendiamo cura nel modo corretto, ma oggi c'è una grande novità. Si chiama Vital Care ed è frutto di un'avanzata tecnologia. Vital Care è una gamma completa per capelli, nata per i professionisti, che oggi trovi nella grande distribuzione e nelle catene di profumerie, prodotti made in Italy per ogni tipo di capello. Allora, quando i tuoi capelli sono un po' provati, puoi ridonare il loro splendore con gli innovativi cristalli liquidi, oli, siliconici con proprietà curative e ristrutturanti che districano i capelli e riparano le doppie punte, donano immediata lucentezza e morbidezza. Diciamo, ad ogni capello il suo, condizionanti per tutti i tipi di capelli, ristrutturanti grado 70 per i capelli colorati, rivitalizzanti per i capelli secchi, sfibrati, opachi e anche gli antistatici. Se poi i tuoi capelli sono proprio indeboliti, spessi, sfibrati, c'è il siero alla cheratina, penetrano il capello ristrutturandolo dall'interno. Alcuni capelli hanno bisogno di cure più mirate. Per loro Vital Care ha creato la linea specifici per agire su problematiche più definite. Shampoo etiale anti-caduta, shampoo anti-forfora e l'innovativo doccia shampoo con la nuova formula adatta a chi frequenta le palestre e le piscine. E infine, per creare, scolpire, definire il look, c'è la linea styling. È una linea veramente completa. L'acca, gel, mousse, cera, per i sissaggi naturali, forti o extra forti, e per le onde vaporose e ricci in movimento e lattina. Allora scopri tutte le linee Vital Care su vitalcare.it e mi raccomando, prova lì Vital Care per capelli da 110 e 9. E' un cuore.